Oggi noi parliamo del distretto sociosanitario Marsala Petrosino in relazione a quello che è il DM77 del 2022, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Diciamo che è un'occasione importante ed unica per il rilancio di quelle che sono tutte, non solo le infrastrutture territoriali, ma anche un modo di fare salute del territorio. A parte l'integrazione ospedale e territorio, perché come dice il mio direttore del dipartimento, a cui poi daremo la parola, il territorio forte fa l'ospedale forte. Quindi il primo step di cure fondamentale per tutelare la salute della gente è il distretto sociosanitario. Noi oggi parleremo a grandi linee di quelle che sono il DM77, il PNRR, le novità che ci porteranno. Le COT, per esempio, che è un modello organizzativo territoriale importantissimo. Perché? Perché è un modello di coordinamento della presa in carico del paziente e soprattutto assicurare in maniera pronta ed efficace quelli che sono i servizi. Siamo partiti da circa un mese con Agenas, con un progetto pilota, il quale parte proprio da Marsala. Ecco perché io, grazie al Presidente, grazie ai consiglieri, grazie a tutti gli amici miei che in questo territorio fanno politica e che mi stanno notevolmente sostenendo e supportando, abbiamo iniziato a fare tutta questa serie di incontri che poi io farò in tutte le altre ambiti territoriali, Mazzara, Travano e quant'altro. Però abbiamo iniziato da Marsala perché da Marsala che comincerà sostanzialmente, si comincerà a parlare veramente di riforma del territorio. E' proprio da Marsala che può, assieme all'aiuto di tutti, di tutti, potrà diventare veramente capofila rispetto ad una programmazione, una realizzazione e un'organizzazione futura di quella che è il territorio. Ci stiamo lavorando e ci stiamo impegnando molto.